Pisa festeggia la giornata nazionale degli alberi con l'inaugurazione dell'area verde di via Pagni a Gagno, chiamata da oggi il Bosco del Futuro, un nuovo bosco urbano dedicato ai 596 bambini nati a Pisa nel 2021. Nella nuova area verde sono stati piantumati 100 nuovi alberi di 8 specie diverse. Se vogliamo abbiamo colto due aspetti, da una parte sicuramente l'attenzione a coloro che sono nati nell'anno 2021 per i quali appunto sono stati piantati gli alberi, come prevede la norma, sul verde voi sapete quanto la nostra amministrazione ha investito in questi anni con una serie di interventi, due se vogliamo anche una mitigazione di quello che è il clima di questa zona perché in qualche modo sapete che piantando gli alberi mediamente si diminuisce di 2 gradi la temperatura durante il periodo estivo quindi in qualche modo ne beneficeranno i residenti di quest'area. Ma il parco di Gagno non è l'unico investimento che l'amministrazione comunale ha deciso di fare sul verde pubblico anzi importanti risorse sono state stanziate per la creazione di parchi in tutta la città. Le alberature urbane tra viagli alberati e parchi urbani sono circa 20.000 entro la fine del 2023 verranno incrementate di 2.000 nuove piantumazioni. La sola manutenzione del verde ci impegna per oltre 2 milioni di euro l'anno e poi abbiamo in corso due grandi parchi in costruzione, il grande parco a Cisanello, il parco Europa e il parco in centro tra via Bixio e via Battisti. Inoltre ci siamo aggiudicati per oltre 470.000 euro la realizzazione di 28 nuovi giardini all'interno dei nostri parchi scolastici e anche quello che stiamo per fare ovvero il grandissimo parco di via Pungilupo sul quale addirittura c'è un investimento già finanziato di oltre 5 milioni di euro.